E ragazzi, come va? Io sono Ferininkin E io sono Stef, che senti che è Magimod? E oggi siamo qui con una nuovissima modalità Il Morder in compagnia di Espigiochi e Luca Esattamente, finalmente la proviamo È uguale, identica a quella che conoscete su Roblox Quindi è un qualcosa di fantastico Perché prima di tutto siamo soltanto nei quattro Seconda cosa, la mappa è bellissima Assolutamente sì Terza cosa, possiamo cambiare la nostra estetica Quindi iniziando a confondere gli altri giocatori Per non farli capire più chi siamo, chi non siamo Esatto E soprattutto cosa siamo Assassini, sceriffi o persone semplicemente innocenti Quindi ne succederanno in tutti i colori Prevalentemente un video dove si trolla tutto il tempo Non si capirà più nulla Ma sarà davvero divertente Quindi buona visione E ricordatevi di passare dal canale di Espigiochi La cosa più importante in questa malità è non dire cosa siamo Io sono il detective Io sono l'assassino Non è vero Io sono l'innocente Secondo me Io sono l'assassino Secondo me Espigio è l'assassino Io sono un assassino Buono Fere se tu hai una pistola Spara Espi No perché Fidati Se hai la pistola sparalo Non mi fido Fere Non mi fido Fere ti devi sfidare No mi piace Espi E lui E lui è l'assassino Datemi delle prove per cui Dio debba essere l'assassino Dai Allora Perché secondo me Fere è lo sceliffo Perché non ha i capelli E Luca se fosse l'assassino Mi avrebbe già ucciso Quindi sei tu Espi Espi Fere devi spararlo Prima che ci amarti Solo io Non ho una pistola Espi Prendilo Espi io ti ho difeso Espi ti stavo difendendo Lasciami stare Espi Aiuto Ragazzi ma chi ha la pistola di noi C'è la Fere E niente se ne accorta Ah ce l'ho io Allora vado a uccidere Fere Mamma mia Sì perché Perché Bagate non la vedo Ho preso Arrivo Stef Devo vendicarti Mi sono già cibato di un po' di pollo Adesso mi sa che un po' di carne umana Non mi fa nemmeno schifo Vieni qua Ti sto guardando Non ci provare Lasciami in pace il mio corpo Guardalo Guardalo come canta Aiuto Espi basta Mi stai facendo paura Smettila Allora Fere sei vicina Mi sa che dovevi Eh sì Sei vicina Allora io sto guardando entrambi Lui ancora dove si canta No Fere All'ospedale Ma che ci fai all'ospedale Non lo so Fere ci sei C'è il cadavere di Luca Aiuto Esatto Quindi sei vicina Fere Mamma mia Dai che ce la fai Allora Secondo me lì Esci da questa stanza Via a sinistra Esatto Perché devo farlo io Ok perché sei l'unica mia E se lo sceriffo Fere E coi tavoli del ristorante Sei vicina Sei vicina Sei vicina Sei vicina Aiuto Dov'è Devi guardarti sempre alle spalle Allora Espi ancora lì fermo Controllato Sì È là È là Spara Si è buttato Devi inseguirlo Fere Devi inseguirlo Allora non posso Attento Attento No Sì Sì L'ho presa Guardate che difficilissimo Sparare È davvero difficile Dicono tutti così E poi con le mani sudate dall'ansia Esagerata Perché dobbiamo giaccare Mi piace un sacco Espi nasconde Cioè mi ha messo un anzo incredibile Per tutta la partita Ai 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 Sono l'assassino Davvero? Di nuovo? Sì Anche io sono l'assassino Espi Com'è possibile? Allora andiamo a fare cose d'assassini Siamo a quattro assassini Che bello Sì sicuramente Espi è a poveri Espi è a poveri Non sono io Non sono io Espi No mi sto seguendo Che è lo sceriffo però Espi assolutamente Mi sta seguendo No Espi Voglio solo fare squadra con te No non voglio Ho paura Non voglio Ti vuoi vendicare Ti vuoi vendicare per l'ansi Ciao Luca Ti vuoi far sudare le mani per me Sei tu lo sceriffo? O è Fere? È Fere? Non ho armi O Fere è l'assassino Non sono l'assassino Espi sei lo sceriffo? Oddio Secondo me è lei Mi sta stalkerando È sempre Espi Io mi butto dalla nave Oddio Allora Espi è per forza lo sceriffo Io lo sto tenendo doppia Però Espi ci puoi dire che sei lo sceriffo Che almeno stiamo vicino a te Io non so se Ho pistole Ah sì una pistola Vieni qua Espi Ti devo sparare? Sei l'assassina? Non sono io Espi 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 è Steph secondo me allora Espi Potrebbe essere Cacchio però vi ho detto che sono un detective Stai lontana da me Shaw Shaw Stai lontana Non sono io Cavoli Non mi fido Chi si avvicina muore Chi si avvicina muore Espi mi ammazza Mi ammazza Luca adesso No state lontani Luca se ti avvicino muore Guardate Ci sta Ci sta minacciando a tutti Guardate come ci minaccia Capito State fermi Quell'aromazzo Muori No Maledetto Perché ti sei avvicinato Perché l'hai fatto? C'è la pista alla terra Prendi la pista Ok Ok È Steph Sono morto No ma te è impossibile Stavo ricaricando Io Espi te l'ho detto che era Steph Perché te la sei presa con me? Te l'ho detto Perché Se chi mi sta vicino Muore Ok Non mi fido di nessuno Espi non va bene Perché stavolta È un po' troppo No 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 È troppo estremo È troppo po' diffidente Non mi vido Ok Come faccio a fidarmi Di una tizia Qui prima Prima ho fatto sudare le mani Adesso ce la cuore Qua L'assassino È uno dei due Luca No Sì 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 Sei tu questa volta È da troppo tempo Che non capito Ma se ero io Eh lo so Ma può ricapitare Non lo so È da troppo tempo Allora Espi No allora Espi Allora Espi Espi mobile Espi mobile Espi Guardatelo negli occhi Guardatelo Dov'è Espi Io sono scappata Si chiama Giuliette Ed è lui È lui È l'assassino Ciao tesoro No no Facciamo lasciare del balcone Io e te Aspetta Fermo 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 Romeo Rimani là Che sta dicendo Oh Romeo Romeo Mi puoi sparare Romeo Luca sei X-Ray Giochiamo alla roulette russa Luca sei X-Ray Sì 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 D'accordo Aspetta No no io non sono X-Ray Sei Mico No Sì Sei una Allora Luca Dico Ok ditemi Luca Chi sono io No non posso dire Luca devi dirmi se sei Mico o X-Ray È importante Mi posso fidare di te Sì Non ti fidare Luca Fidati Non ti fidare mai Ok Spara X-Ray di netto Veloce prima che tiri fuori il coltello Cosa? È dal contrario Cos'è successo ragazzi? Perché sono morta? Ero X-Ray Io ho sparato a Mico Che ero io l'assassino Perché ha sparato a me? Perché gli ho detto di spararti A X-Ray non a Mico È perché eravate voi due E quindi Ho sbagliato Vabbè Vabbè Allora Via Mori Ma cosa? Chi era? Ma... Chi era? Buongiorno Cioè Ok Non ho capito cosa è successo ragazzi Allora Io ero il serifo Luca era l'assassino Mi sono girato allo sparato Mi piace come tattica però Guardate che non è male Ad esempio mi faccio così Boh muori Non ci credo La smettiamo Buongiorno signore Pippo Ci può dare il amere? Ah sì Dovrei avere qualcosa da questa parte Cosa vuole un po' di rum? No Io vorrei una pistola che spara Luca Perché è l'assassino Ma cosa? Non so come procurargliela Qui abbiamo del rum? Permette? No io voglio una pistola Perché so che c'hai tu la pistola O forse c'è la Fere? Non c'ho la pistola Eh chi lo sa Chi lo sa Chiunque Chiunque ha la pistola Spari a Luca Ok Che è Romeo Vieni qua Luca Vieni qua Innocente Devi premere il grilletto Fere Oh io ero qua solo per rilassarmi Lasciatemi in pace No Lo serifo non si rilassa mai Fere Perché vuole starmi alle spalle Ferenichi perché? Io la pistola espie Alla pistola Giro qua la pistola Oddio Oddio corri Perché non vi firate? Perché non vi firate di me? Luca è un traditore No dai Mi rannasco Luca è un traditore È volato giù dalla finestra Io Vi dico le cose Nessuno mi ascolta qua Spara Luca È semplice Lo ammazzi Finisce il round Invece no Non si fidano Entrate nelle celle Non mi fida più di nessuno Quindi adesso entrate E vi interrogo uno a uno Perché mi avete tutti fregato troppe volte Luca è entrato con me Qui è l'assassino Espi vai Espi vai nell'altra Espi vai nell'altra Non ti vediamo in questa No 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 Chiudi chiudi Espi ti sparo Allora Espi sei bruttissimo Fai paura Non mi apparire più Espi vai lì dentro E stai fermo Alle spalle Perché fai no Ma voglio parlare con voi Mi fate parlare con voi Espi all'approssima ti sparo Ok scusami Fanno stare qua dentro Con noi Fanno stare qua dentro Ho una proposta Ok Chiunque sia l'assassino Se uccidete Espi Vi lascio liberi No 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 Per favore no Tutto male non quello Fai l'interrogatorio Inizia a fare le domande Per capire chi è l'assassino L'assassino ha qualcosa di rosso Abbiamo tutti nel rosso C'è anche il tuo cappello Il tuo cappello No Lui non troppo Quindi scudere il Luca Allora Ok ok È un'ottima domanda È un'ottima domanda Facciamo tipo indovina chi Capito Hai capelli Luca Io li baffi Luca giuri solennemente Che non sei l'assassino Perché sei l'unico Che non ha cose rosse Sì Beh in realtà Un po' di rosso Però no Non sono io Ok 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 Prossima domanda Per capire se sono io O Espi l'assassino Vai L'assassino ha la pelle Perché Espi non ce l'ha Beh insomma L'assassino ha decisamente la pelle Anche una bandana rossa E dei baffi E dei rasta Sì certo E lui sta imbrogliando Certo parla quello Che imbroglia sempre Vedrai E che ammazzà sempre tutti Se non ci fosse Lei pronta lì a sparare Ci avresti già uccisi entrambi Esatto Ammettilo Ammettilo Che l'avresti già fatto Faccio le tasche vuote Continuo a controllare Ma l'ho lasciato a casa Il coltello Dannazione Cioè Guarda Le tasche vuote Prima diceva Le tasche vuote Aveva la pistola Esatto Ormai usa sempre La stessa cosa No Per favore Non crederli Non crederli Oddio Perché è un fumo nero Steph Steph Il fumo nero Che cosa succede Steph Perché faccio fumo L'ho ucciso Sì Eri tu Ma perché facevo fumo nero Ma cos'è sta storia No però ho sparato Chiunque Ok che non mi facciamo una doccia Da un po' Ma così è troppo Perché hai fatto quel fumo Secondo me sono passati Troppi minuti E ho iniziato a fumare E infatti l'ho sparato Ho sparato Ho detto C'è qualcosa di strano Sparo Ma dai Uff 3 2 1 Bianco Natale Pim 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 Non puoi interrompere il nostro concerto così Allora Secondo me Abuso di polizia Chi suona così bene come me Non può essere l'assassino Quindi io sparerei a respi Che cantando era davvero terribile No Io ho cantato benissimo Però sì Io sono rimasta nello stesso ruolo È probabile che anche Steph Si è rimasto nello stesso ruolo Nel ruolo precedente Non è tutti i torti però Ok Ok No no È vero È vero È vero È vero Quindi È un'ottima giustificazione per spararmi Esatto Però 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 Non lo so Allora Espi solo perché ha cantato Bianconatello Sarebbe da sparare in testa No Per favore E di Luca Nessuno parla Allora scusatemi Ah Stai pronto Allora C'è da dire che Quando è iniziato il round Espi Che eravamo fuori registrazione Poi ho detto Ah sono l'assassino Quindi È vero No no L'ha detto L'ha detto L'ha detto L'ha detto Sì no L'ho detto L'ho detto È vero Non me siete accorti Quindi secondo me Sei l'assassino Luca come hai fatto Rialzati Oddio Oddio Mi sono da fare una respirazione Bocca a bocca Oddio è svenuto Datele una mano Espi Lo sapevo Lo sapevo Ha preso a me Solo cercando di prendere Luca No No La pistola Dai Luca Ma lo sapevo che era da sparare Espi Non so Ciao Espi Grazie Mi hai salvato Buongiorno Espi Io sono suo psicologo Esattamente che problemi c'ha Buongiorno Ho problemi di equilibrio Per cominciare Perché non sono uscita a mettermi bene sul lettino Allora Secondo me questo è un problema che deriva dalla sua famiglia Ha sicuramente avuto grossi problemi familiari quando era piccolo Vero? No In realtà siamo sanissimi Non provi ad accusare la sua famiglia Esatto Non ci provi a una pistola Scusate non li avevo visti Allora chi siete esattamente? Il padre e la madre? Chi ho una pistola? Siamo una famiglia armata Siamo una famiglia armata Non ci provi Ma No no È importante per me capire il grado di parente Vabbè Avete capito? Diciamo che io e Luca l'abbiamo trovato in autostrada E l'abbiamo adottato Ok quindi non siete propriamente sui parenti No Sì legalmente Abbastanza Ok Ok Allora Secondo me È soltanto la mia opinione da psicologo Il problema di Espy è che è un vigliacco che ci ha ammazzato troppe volte No E quindi adesso la sua coscienza Si sente in colpa? Sì sì Ma La sua coscienza lo sta colpendo Ma come mai lo psicologo ha il fumo che gli esce dalla schiena? Perché la tua coscienza mi stava facendo ardere dentro Perché la sto capendo piano piano E piano piano mi sta bruciando dentro Ah non è che il psicologo è l'assassino? No 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 vero? No no assolutamente no Guarda mi spiace Secondo me l'assassino è Espy Siete d'accordo? Sì Ok ok Vi sto danneggiando un sacco rimanendo con la faccia schiacciata all'ettino Sono Sono l'assassino sicuramente Sei chiaramente l'assassino Non è lo psicologo con l'anoma nera No 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 Infatti lo psicologo adesso piano piano se ne va e scappa Dovete 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 Inseguitelo è lui È lui prendetelo Aiuto Stai lasciando la scia nera ovunque E' troffato Eccomi Morite tutti Mi stai bloccato Mi scappa Ok ok ne ho ammazzato due Ma Luca siamo morti entrambi? No manca solo Luca Mori Luca No Che psicologo terribile Vi ho fatto un'ottima seduta E per questa volta è gratis la mia seduta La prossima sarà spiritica Per fortuna Esatto Bene che se vi riuscite Sceglieci un like E questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerarli Da di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao Ciao